la letteratura sia un piacevole passatempo e che la realtà segua altre leggi e altri criteri. Io credo che questo non sia assolutamente vero, credo anzi che la letteratura più di qualsiasi altra modalità del pensiero aiuti a tenere ben salda in mano la realtà e se del caso anche a influenzarla. È il caso di questo piccolo grande libro, I dolori del giovane Werther, pubblicato nel 1774 da un giovane 26enne che si chiamava Johann Wolfgang Goethe. Nel maggio del 1772 aveva appena 23 anni e aveva finito l'università diciamo e fu mandato Goethe nella piccola cittadina di Wetzlar ad assolvere una sorta di praticantato, di tirocinio, oggi diremmo uno stage. Fu mandato lì da suo padre così come da suo padre era stato indotto a studiare la giurisprudenza che lo interessava in realtà pochissimo. Ebbene nel maggio del 1772, a 23 anni, arrivò in questa piccola cittadina, lui veniva dalla ricca e borghese Francoforte. In questa cittadina di provincia Goethe assolse probabilmente più male che bene il suo onere lavorativo, il suo apprendistato e naturalmente entrò in contatto con altri giovani più o meno nelle sue condizioni e entrò in una piccola cerchia di frequentazioni. Centro di questa cerchia era, come si può comprendere bene, la figlia del podestà della piccola cittadina, Charlotte, Charlotte Bouff, ragazza di non particolare avvenenza, ma sicuramente graziosa e accattivante, che viveva in questa casa di campagna con il vecchio padre e addirittura dieci tra fratelli e sorelle minori che lei, orfana di madre, cresceva. Goethe entrò in contatto con Charlotte e con il suo fidanzato e iniziò con loro un gioco amicale, tra l'amicale e l'amoroso, in un rapporto a tre innocente ma forse nemmeno tanto innocente, almeno da parte di Goethe stesso. Questa strana atmosfera, in parte idilliaca, fatta di gite, di letture comuni, di vita all'aria aperta e sicuramente di reciproche scoperte, si interruppe improvvisamente dopo tre mesi, quando Goethe decise dalla sera alla mattina di andarsene senza salutare nessuno. Lasciò Wetzlar definitivamente e se ne andò. Se ne andò senza salutare ma rimase in contatto epistolare con il fidanzato di Charlotte, suo collega al tribunale di Wetzlar. E fu proprio il fidanzato di Charlotte, Kessner, che il 30 di ottobre di quel 1772 gli annunciò un evento assolutamente drammatico. Un loro conoscente, coetaneo, si chiamava Carl Wilhelm Jerusalem, si era il giorno prima ucciso, si era sparato un colpo di pistola, probabilmente per un amore infelice legato a una infelicissima sua situazione professionale, dovuta a un dato che riguardava tutti quei giovani borghesi in quell'epoca, ovvero la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità di intraprendere una carriera in un mondo completamente governato e diciamo così bloccato dalla aristocrazia. Questi dati, il dato quindi autobiografico di un rapporto amoroso ed amicizia e il dato del suicidio si saldano nella memoria di Goethe e danno origine appunto a questa piccola opera. Piccola opera che esce nel 1774 in prima edizione, quindi Goethe aveva 25 anni soltanto e riuscirà poi nell'edizione definitiva del 1787 che è quella che tutti conosciamo ma che in fondo non si discosta poi granché dalla prima. Questa opera come tutti sanno ebbe un successo planetario, anzi è uno dei primi casi forse di vero e proprio best seller a livello europeo. Ebbe un successo clamoroso, un successo anche in termini scandalistici naturalmente in Germania e dalla Germania si irradiò a velocità per i tempi assolutamente straordinari in tutta l'Europa colta. Mi furono praticamente immediate traduzioni in Francia, in Inghilterra e anche molto presto da noi. Pensate solo all'influenza che il libro ha avuto sul nostro foscolo sulle lettere di Jacopo Ortis. Ma oltre a diffondersi il libro ebbe un'influenza assolutamente straordinaria su tutte le giovani generazioni in Europa e si diffuse oltre al libro si diffuse una vera e propria moda, il cosiddetto verterismo. I ragazzi, naturalmente i figli della borghesia colta di tutta Europa, presero a vestirsi alla Werther, a comportarsi alla Werther e addirittura, ahimè, a suicidarsi alla Werther. Ora, tutti questi aspetti sono per noi molto interessanti, perché intanto va detto subito che Goethe voleva tutt'altro, Goethe voleva nella rappresentazione di questo giovane, di questo amore infelice che si connette a una gravissima difficoltà di tipo professional, sociale, voleva rappresentare un modello, diciamo così, da non seguire, un modello di debolezza e di solipsismo al quale esortava invece i giovani suoi contemporanei a sottrarsi. Ma al di là delle intenzioni di Goethe, l'aspetto forse più interessante, più interessante per dei giovani oggi, è questa idea della diffusione di un modello, la diffusione di una moda, di una moda che è moda intellettuale, moda culturale. I ragazzi in tutta Europa prendono a vestirsi alla Werther. Come è vestito Werther? Come si presenta Werther in questo romanzo? Qual è l'elemento straordinario di novità? L'elemento straordinario di novità è nel fatto che Werther si presenta rispetto al mondo con il quale entra in contatto. Werther si presenta come un outsider, si presenta con la consapevolezza e anche con l'arroganza di colui che è diverso e si pone fuori dal contesto comune. Werther è vestito in modo bizzarro. La geografia wertheriana lo descrisse appunto nella moda che si diffuse in tutta Europa con la marsina azzurra e il panciotto giallo. Werther cioè è vestito in un modo che noi oggi definiremmo sportivo o casual addirittura. Perché? Perché è vestito da cavallo. Porta questa marsina azzurra, questo completo azzurro sportivo con pantaloni attillati e una giacca leggermente lunga sul dietro, stivali da cavallo e questo famosissimo panciotto giallo. Il fatto che Werther adotti in tutte le occasioni della sua vita sociale questa tenuta che abbiamo definito sportiva la dice lunga sul suo atteggiamento nei confronti della società che lo circonda. il suo abbigliamento costituisce già già in sé una provocazione all'establishment ma al di là dell'aspetto provocatorio è anche importante l'aspetto funzionale. Questo abbigliamento consente a Werther una serie di azioni, una serie di posture del corpo che sono ai tempi assolutamente inusitate, se non addirittura proibite. Ci sono due scene bellissime nel romanzo che vedono Werther sdraiato a terra. la cosa vi sembrerà poco interessante o forse poco eversiva, al contrario è estremamente eversiva. In una prima scena Werther sdraiato a pancia sotto nell'erba, nella natura, osserva da vicino minutamente la natura, osserva la natura e ne diventa in qualche modo parte, ne partecipe con il corpo, la sente sotto di sé. Quindi attua un rapporto con la natura assolutamente immediato e questo rappresenta una straordinaria e rivoluzionaria novità nell'epoca. Altra scena di Werther sdraiato è Werther che gioca con i fratellini di Lot e gioca con loro alla lotta e è rappresentato sdraiato in terra, questa volta supino e con tutti questi bambini addosso che lottano con lui. Anche questo un atteggiamento guardato con assoluta riprovazione dai benpensanti perché naturalmente stravolge tutta una serie di dogmi anche pedagogico-educativi che allora erano assolutamente considerati fissi ed immutabili e che Werther stravolge, anzi travolge completamente con il suo modo. Ecco, io credo che questo sia l'aspetto in fondo più interessante oggi. In fondo quello che Goethe voleva era esattamente questo, cioè mostrare una nuova figura di giovane intellettuale borghese in lotta contro l'immobilismo, contro l'immobilismo aristocratico ma anche contro l'immobilismo dei padri della generazione precedente e in grado di proporre un modello alternativo.